Grazie al comune di Baolado, perché è un piccolo comune qua vicino, così visionario nel capire che due artisti di calibro così internazionale erano interessati a raccontare una storia. Noi in qualche modo attiriamo un po' l'attenzione anche del pubblico, perché in uno scenario dove iniziamo dove non c'erano figure, le figure si iniziano a imporre un po' nel paesaggio urbano e questo tipo di stencil viene realizzato unicamente da poche persone. Grazie.